Ciao ragazze, oggi una location diversa, la mia camera da letto, infatti vedete, siamo seduti sul letto e questo è il mio bellissimo copriletto dell'IKEA, va bene. Come vedete, da quello che vedete qua sopra, oggi parliamo del mio bracciale, anzi dei miei bracciali Pandora. Vi ho fatto tempo fa il video della pulizia di come li curo, in realtà avrei in teoria il kit di pulizia, il famosissimo kit di pulizia, che viene venduto in questa scatola al prezzo di 15 euro, quindi neanche tanto esoso. In questa scatolina è così, tutto di velluto, bianca, e poi all'interno c'era anche una parte di velluto in cui si incastravano i vari accessori, c'è una pezzetta per pulire piccola, una grande, uno spazzolino, lo spazzolato di veri charms, e poi c'erano vari sacchettini di questo tipo, c'erano bianchi e neri, ora non ricordo di preciso quanti ce n'erano, ecco questo qua c'è il librettino, così possiamo capire, vedete, ah e c'era anche questo, ecco qua, non lo ricordavo, che era qui, la prechiusura, eccolo qui, che è una specie di portachiavi, vedete, semplicissimo, però in realtà è una prechiusura per aprire Pandora, per aprire le clip, e io lo tengo in un'altra scatolina però. Qui c'era, era dotato di, eccolo qui cosa c'era dentro, il contenuto, lo spazzolino che vi ho fatto vedere, poi c'erano dei sacchetti, due neri e tre bianchi, una pezza nera per pulire, che non so neanche dove sia, devo dire la verità, una bianca e una nera, e poi la prechiusura. Qui c'è tutta la spiegazione, come si può pulire, come si può, ma io già vi ho fatto vedere il video di come li pulisco io, quindi non ha senso farmi parlare della pulizia del Pandora. Questa è una. Poi abbiamo, vabbè, i charms solitamente nei negozi vengono venduti in queste scatoline semplici, vedete riuscire a vedere Pandora, bianchi semplicissimi. Poi questo sacchettino forse era lì, credo che fosse lì, vedete un sacchettino nero con scritto qua, non si riesce a vedere purtroppo dalla luce, ma qui c'è scritto Pandora, e io ci conservo dentro tutti i certificati di garanzia dei charms, così, vedete, eccoli qua. Poi io vi mostro per esempio queste due scatoline che erano due collezioni speciali, Pandora Shine, infatti vedete li lasciati proprio così con il loro cartoncino, perché erano carini, e poi questa, quando è arrivata la collezione Disney Pandora negli store, questo qua guardate che carino, cioè da questo lato c'è Minnie, metti a fuoco, eccolo qui, e da quest'altro lato c'è il topolino, sopra c'è scritto Pandora, poi lo scatolino è semplice, è normalissimo, bianco, però in più c'era questo cartoncino che davano in omaggio con l'uscita appunto della collezione Disney, con la quale ho ricevuto anche questa, acquistando un Totter, non ricordo quanto fosse, comunque ho avuto anche questa pochetta bellissima, guardate quanto è bella, con topolino, Disney Pandora, c'è il gancio, quindi si può usare come pochetta da polso, così, vedete, e anche se gli staccate questo, ad esempio, può essere una pochettina da borsa, molto carina, sempre un'altra pochetta che è stata regalata in un altro evento, questa, fucsia, con la scritta Do Shine, tutta glitterosa, e di qua c'è scritto Do Pandora, semplicissima fucsia in entenica, però in plastificata, però molto carina. Poi, quando invece fate un ordine online, gli ordini online, solitamente i charms, anelli, quant'altro, vi arrivano in questo scatolino, guardate quanto è bella, è rosa, cioè bianca, con la scritta Pandora, riuscite a vedere la scritta Pandora? Sì, ecco qua, il fiocchettino rosa, e poi dentro è fatta così, io adesso la utilizzo per altri bracciali. Ve ne faccio vedere uno dei miei preferiti, che non fa parte di Pandora, però è meraviglioso, io che amo gli unicorni, eccolo qui, questo qui è il mio Kiddult, quello con un unicorno, bellissimo, non potevo non averlo, quindi comunque qui vedete altri bracciali che conservano questa scatolina. Un'altra cosa che mi è stata omaggiata, sempre di gadget, è questo piccolo gloss, un lip balm, semplicissimo, bianco, niente riga, e lo regalavano l'anno scorso alla festa della donna, bastava andare in uno store Pandora e lo regalavano. Adesso andiamo al piatto forte. Questa è una box rosa, che è stata regalata, non ricordo se è l'anno scorso o due anni fa, per la festa della mamma, e era acquistando sempre un tot di gioielli, adesso non ricordo di preciso, la regolta è bella, morbidissima, poi si presenta così, eccola qui. Dentro io ci tengo tutti i miei gioielli, più che altro Pandora, anche perché non ho altri gioielli, c'è appunto una pezzettina di queste piccole, che sarebbero quelle che vi ho fatto vedere prima nel cartoncino, dove vanno, sarebbero queste. Chiusa è così, credo che ci sia questa qui dentro. Vediamo che cosa dice. Sì, questa qua. Quindi questa la metto qui perché può sempre servire, e poi c'è dentro appunto la prechiusura che vi dicevo prima. Scusate. Ecco, bellissimo. Allora, cominciamo con i gioielli. Questi qui li avete visti l'altro giorno nella pulizia. Sono tornata ma purtroppo mi è venuta la tosse, quindi ho dovuto stoppare un attimo. Intanto ho tolto tutto da mezzo, così è tutto più pulito e ordinato. Allora, vi dicevo, questo qui è il bracciale, quello smaltato rosa, che avete visto nel video della pulizia. Rigido, semi rigido, un po' ovale. Poi, c'è questo, sempre che avete visto nel video della pulizia. con questa chiusura al lucchetto, con i svaroschini rosa. Vedete quanto è bello. Poi abbiamo il mio Pandora tema mare. Allora, vedete, è un multifilo turchese. e ci sono i charms. Allora, la palma. Ho tolto il flash perché non si vedeva nulla. Allora, abbiamo il contrario. Così. Allora, il pappagallo. turchese con tutti gli svaroschi. La palma tutta di svaroschi. Il cocktail. Questo è il fenicottero con le palme, che però purtroppo con questa luce non si vede, ma il fenicottero è fucsia. Eccolo qui. E le palme sono tutte turchesi. Tutte i due lati, tutti i penni di svaroschi. E poi qui tutte le stelline. Poi abbiamo conchiglia e stella marina pendenti. Qui. Quelli qui. La stella marina è tutta piena di svaroschini azzurri. Poi abbiamo la conchiglia semplice con la stella marina. Poi abbiamo il bellissimo, meraviglioso cavalluccio marino tutto turchese. Purtroppo qui con questa luce non si vede bene. Peccato. per tutto turchese. Ecco, questo è quello tema mare. Poi abbiamo questo che è tema Disney, Minnetto Polino più che altro, che ha questa chiusura. Questo è di Natale. La collezione, una riunizione speciale per Natale. La chiusura è così, tipo fuoco d'artificio. Da un lato è tutto svaroscato, da un lato no, è tutto congigliato così. rigido, ma non ha nessuna scritta, questo. E abbiamo, questo è un cuore fucsia, che era in un altro bracciale ma io l'ho messo qui. Poi c'è questo, che è la... Aspettate, vediamo se io metto un cuscino bianco sotto, se riusciamo meglio a farvi capire tutto per bene. Allora, questa è la Candy Cane pendente di Topolino. Topolino vestito da Babbo Natale con la Candy Cane, è bellissimo. Poi io ho messo il fiocco, questo qui, papè. Questo è Topolino pendente. Poi c'è Minnie, la faccia di Minnie. E poi io ho messo questo, che in realtà non è di Pandora, questo qui, vedete, il bicchiere di Starbucks. Guardate che carino. Scritto coffee. Che non è di... L'ho preso su Aliexpress. È bellissimo. E poi c'è questa clip rosa. Clip Eleganza luccicante, si chiamano queste clip. Questa qui è la rosa. E questo è il rigido Disney. Vedete? Eccolo qua. Poi abbiamo quest'altro, sempre rigido, con la chiusura a pallina questa volta, quindi a pallina semplice, diciamo, con qui da un lato scritto Pandora, semplice, vedete qui. Eccolo. Invece dall'altro lato è così. Mettiamo fuoco. qui non si vede la chiusura. Porca zozza. Mi sto arrabbiando oggi. Tra la tosse e la luce tremenda. Vediamo se cambiando angolazione riesco a farvi vedere la chiusura. No. Eccola qui, ce l'abbiamo fatta. Vedete? è un fiocco di neve. Sembra bianco qui, ma in realtà è sull'azzurrino. Tipo sono svaroschini azzurri, ma in realtà questo ha una scritta. Unique as you are. Sei unica. E questo qui è tema natale, ovviamente. Con fiocco di neve non poteva non essere un natalizio. Niente, questo cuscino non mi piace. Proviamo quest'altro. Ah, io ce l'ho anche tutto bianco. Eccolo qui. Non lo ricordavo in questo momento. Qui. ecco, questo va molto meglio. Quindi vedete il rigido. E abbiamo clip, eleganza luccicante, sempre eleganza luminosa, non lo ricordo bene. Questo qui è proprio color Tiffany. Mentre questa qui è verde smeraldo. Sembrano uguali, ma in realtà sono diversi colori. No, ecco, così vorrei uscire forse un po' a vederlo. Vedere che questo è un po' più Tiffany e quello è un po' più verde smeraldo. Poi troviamo l'ultimo Zanzi uscito. Zanzi, come vi diciamo in un altro video, io amo letteralmente a Natale avere Zanzi e il pan di zenzero comunque. Poi c'è questa è la calza pendente con i regali. Questa pallina che ho scritto Merry Christmas sotto a sbirluccica. Guardate quanto sbirluccica. Guardate, bellissima. Poi la Candy Cane semplice. Poi abbiamo la Renna Rudolf. Guardate che bellina la Renna Rudolfo e la Toro. Zanzi pendente ovviamente. Questo qui è molto molto vecchio. Questo Zanzi di una vecchissima collezione le prime uscite. Quindi un FP anzi, cioè vuol dire un fuori produzione. E poi quest'anno è stato rifatto questo. E poi questa è la meraviglia dell'uscita della collezione di Natale di quest'anno. Guardatela. La cioccolata calda con la panna e la Candy Cane dentro. Cioè il mio vero must nel periodo natalizzo. Guardate la panna com'è fatta come se ci fossero dei corallini. vedete? C'è qui il manico la Candy Cane dentro. Ecco e questo è il rigido tema Natale. Adesso vi faccio vedere quelli che praticamente sono smontati perché come vi avevo detto stavo aspettando di ricevere il nuovo charm di Aurora la principessa Aurora perché purtroppo si era staccato lo sbalto quindi ho dovuto rimandarlo indietro l'avevo preso online con i saldi di gennaio e eccolo qui stamattina finalmente mi è arrivato. eccolo qui Aurora si era staccato praticamente tutto lo smalto da parte rosa chiara questa qui del vestito sia davanti che dietro quindi cominciamo subito a frarire vedere tutte le principesse le monto su questo bracciale qui che è già stato lavato quindi vedete è bello lucido con la chiusura così a cuore ma non pavè come quella che avete visto nel video ma semplice nel video della pulizia questa qua semplice vedete con scritto qua da un lato c'è scritto Pandora e da un lato c'è il cuore cioè no il cuore il simbolo la O di Pandora dice che viene montato su questo bracciale vengono montate le principesse adesso le prendo tutte tutte quelle tema diciamo questo qui è tutto tema principesse abbiamo poi Biancaneve Elsa Ariel la corona delle principesse guardate che meraviglia la corona delle principesse ma perché oggi non mi vuoi mettere a fuoco devi fare la monella eccola qui la monella così sta fotocamera monella voi non lo vedete adesso purtroppo ma c'è scritto my my princess tutto eccolo qui adesso lo vedete my princess vedete questa è la corona pendente my princess tutto su qui poi abbiamo il fiocco di neve pavè dai vabbè se si decide niente non vuoi mettere a fuoco adesso poi ve li faccio vedere poi vedrete alla fine casomai in coda alla fine del video poi vi metterò la foto del bracciale completo poi c'è il libro delle fiabbe resto qui è bellissimo il libro delle fiabbe vedete questo è il buco la parte di dietro ha praticamente qui disegnati tipo le mannaggia perché non mi metti a fuoco faglieli vedere c'è il principe erano occhio che bacia la principessa erano occhio in pratica non badate le mie mani per ora le sto mangiando le unghie in una maniera terribile eccolo no niente vabbè vi metterò tutte le foto in coda al al video mi sa vedete c'è scritto fairy tale fairy tale vabbè andiamo avanti perché se no qui allora poi chi abbiamo Anna giustamente abbiamo Elsa abbiamo anche Anna poi abbiamo questa cioè la life proprio chi è Mrs Brick con chicco ma perché non mi metti a fuoco allora eccomi tornata niente erano occhio di tutti Cernos a terra praticamente allora vediamo se stavolta è meglio allora quindi stavo dicendo guardate Mrs Brick con chicco della belle la bestia ovviamente che è uno dei miei cartoni animati della Disney preferiti quindi non potevo non averla eccola guardate che carino questo qui è il manico della teiera eccola qui bellino poi ovviamente c'è Belle vestigino di Belle poi c'è poteva mancarmi Cenerentola che è la principessa preferita di Cristina assolutamente no quindi Anna ve l'avevo detto poi c'è lo specchio magico di Biancaneve questo è anche un FP fuori produzione ecco adesso forse riesco a farvi vedere ecco qua il libro delle favole Fairy Tail vedete Fairy Tail con la corona e dietro vi dicevo c'è il principe Eranocchio che bacia la principessa Eranocchio e poi vediamo se riesco a farvi vedere il fiocco di neve eccolo un po' sbirluccico questo va bene e poi io gli metto questa clip con i fiorellini perché i fiori sono molto da principessa quindi per bloccare ovviamente in una filettatura del bracciale che sarebbero queste le filettature dei blocchi in cui si mettono le clip per evitare che il bracciale si allarghi però comunque anche per dare un certo senso di distanziamento quindi questi sono i Charles del bracciale tema e poi abbiamo quello tema bracciale rosa cuori amore diciamo che già avete intravisto comunque nel video della pulizia dei bracciali dei miei bracciali Pandora perché sono i Charles che abbiamo lavato insieme in quel video eccoli qua tutti insieme che vi ho ben o male fatto vedere in quel video quindi abbiamo la canella di sicurezza questa qui con i cuori poi c'è il pop corn la fetta di torta la murrina in rosa con i cuori la scritta love il cupcake rosa la clip quella lì uguale al bracciale quello con la chiusura all'occhetto la M vintage la C pendente devo ancora purtroppo non ho avuto tempo di riempirlo poi dopo che l'ho lavato qualche giorno fa la G sono le nostre iniziali M di Mary C di Claudia e Cristina che sono le mie figlie e la G di Giampiero che è mio compagno poi abbiamo la chiave della speranza tutta pavè poi questo che vi avevo fatto vedere mi sembra che sia un'esplosione d'amore Friends of my heart che abbiamo diviso con la mia amica Roberta sempre lei e poi la clip cuore poi abbiamo quest'altra ah no scusate c'è questa qui che è la murrina di Aurora delle principesse quindi del tema principesse ero convinta siccome ero vista rosa intravista rosa pensavo fosse di questo bracciale invece no la particolarità delle delle murrine Disney fatti vedere qui c'è scritto Disney eccola qua questa è la murrina di Aurora in particolare proprio della principessa che ho dovuto cambiare infatti le ho prese insieme si illuminano di notte si illuminano di notte al buio quindi qui eravamo arrivati qui poi abbiamo l'arcobaleno sempre in questo bracciale io li metto l'arcobaleno l'unicorno che in realtà non è Pandora ma è di Aliexpress però era meraviglioso troppo bello veramente eccolo qui voglio mangiare la dente per favore grazie i capricci di Claudia eccolo qui l'unicorno poi abbiamo Bruno l'unicorno di Pandora la murrina fuochi no cuori cuori vibranti una cosa del genere no cuori ardenti ecco cuori ardenti la tour Eiffel bella pulita e lucida poi abbiamo l'orchidea rosa fucsia questa è una sfera rosa opalescente e credo di avervi fatto vedere tutti i miei Charles si poi ho l'anello questo qui tiara tiara principesse e basta quelli lì sono delle imitazioni questi qua che vedete qua sempre delle imitazioni di Pandora però sono in realtà di H&M questa è la mia collenina Tiffany l'unico oggetto Tiffany eccola qui con la linea semplicissima Tiffany la metto in questo video perché tanto comunque non ho altre cose di Tiffany quindi non avrebbe senso fare un video a parte va bene adesso mi metto al lavoro ricompongo i bracciali così vedrete in fondo al video le foto di come io compongo i bracciali va bene grazie ci vediamo al prossimo video fatemi sapere soprattutto se voi avete Pandora se avete un tema in particolare se vi piacciono e se invece collezionate altri bracciali come avete visto io ho anche tantissimi altri bracciali come il Kidult anche come si chiama ha dieci buoni propositi veramente tanti bracciali amo i bracciali non uso altri gioielli come vedete dalle mie mani a parte i cruciani non uso null'altro non uso collane non uso tantissimo gli orecchini quasi per niente più che altro in estate uso le collane in inverno assolutamente no i bracciali sono un vero masso per me va bene mi metto all'opera ricostruisco i miei bracciali e ci vediamo al prossimo video ciao ho dimenticato di farvi vedere la mia collezione di bustine Pandora questa è di San Valentino di qualche anno fa e anche questa poi c'è questa con il fiocco poi c'è la classica quella che conoscono tutti poi c'è questa questa è quella di verde che vedete lì sempre uguale a questa qui un'altra in rosa quindi queste qui sono la collezione di bustine Pandora ovviamente ok ciao un bacio